Ciao, se hai voglia di contribuire a migliorare l'Italia, ti aspettiamo Italia 5 Stelle a Rimini. Abbiamo idee per questo paese che passano dalle politiche energetiche alla creazione di posti di lavoro con le bonifiche e con la lotta contro il dissesso idrogeologico. Se ti sembrano buone idee, segnati le date. Dal 22 al 24 settembre ci vediamo a Rimini per parlarne insieme. Sarà un grande evento e per noi che non prendiamo finanziamenti ai partiti, ogni più piccolo contributo è importante. Grazie di cuore.